Grazie a Francesco Maiolino per essere qui con noi, io sono di Articolo 1 e lo ringrazio perché nel mese di settembre Francesco aveva già fatto il giro della campagna elettorale e aveva chiuso i momenti più importanti delle elezioni politiche. Noi della comunità di Articolo 1 lo ringraziamo per la disponibilità che ha manifestato e che sta dimostrando in questo momento accettando la candidatura e da parte nostra c'è un impegno più che convinto a sostenerlo in questa sfida veramente importante. Finalmente abbiamo sentito ossigeno, aria da respirare con la candidatura di Pier Francesco Maiolino e questo è il momento in cui c'è il vento del cambiamento. Siamo convinti che la regione sia contendibile e lavoreremo tutti insieme affinché questo possa avverarsi. Dopo 28 anni finalmente c'è una novità, una novità importante. Abbiamo una figura politica di peso importante, un profilo che sta dalla parte delle persone e proprio questo è il messaggio che in queste settimane che ci accompagneranno all'appuntamento elettorale faremo comprendere alle persone e lavoreremo tutti insieme perché questa coalizione sia il più anche possibile, via l'offerta politica più ampia possibile e possa incontrare il riscontro da parte della cittadinanza in modo tale che finalmente dopo questo lungo governo di giunte di destra ci sia un cambio di passo veramente serio. Grazie. Grazie.